Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono Mariano. Cosa c'è di più bello dei programmi gratuiti? I programmi gratuiti portatili, cioè possiamo portarli all'interno delle nostre pennine, schede e così via. Non so, hard disk, eccone uno, hard disk e così via. Quindi sono programmi che possiamo non installare direttamente sul nostro computer, ma portarli dovunque noi siamo. Te ne faccio vedere 5-6 che a mio avviso sono indispensabili, cioè che ci possiamo portare sempre indietro. Siete pronti? Non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale. Questi sono tutti gli altri miei social, iniziamo immediatamente. Alcuni di questi li dobbiamo scaricare da questo sito qui, portableapps.com. Il primo da cui partiamo è Google Chrome Portable. Se ad esempio mi voglio portare con me un computer che magari non sono i miei, che magari non conosco e così via, la mia versione di Chrome, posso farlo assolutamente. Vedete, io già qui li ho scaricati così non stiamo troppo a perdere tempo. Andiamo a vedere dov'è il nostro Chrome. Ecco, Chrome non l'ho scaricato. Quindi lo scarichiamo insieme. Eccolo qui, adesso lo stiamo scaricando. Vediamo, vediamo, vediamo. Nota bene come io ho, eccolo qui, si è attivato, vedi, mantieni, si è attivato, salva con nome. Lo salviamo dentro la pennina qui, dentro Portable, Chrome, lo salvo. Nota bene come ti stavo dicendo, a me si è attivato VirusTotal, di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle estensioni, delle migliori estensioni. Perché così VirusTotal mi va a fare la scansione di tutto ciò che io sto scaricando. Eccolo qui, Google Chrome, gli dico in italiano, vado avanti. È come se facesse una mini installazione. Mi ero qui dentro alla mia pennina e mi sta installando. In questo momento lo facciamo live, vedete? Facciamo live. Mi sta installando Google Chrome e Google Chrome sarà un Google Chrome, scusami, portabile, portable. Vedete, eccolo qui. Quindi adesso io sto perdendo tempo con voi per farvi capire, insomma, anche l'importanza di poter avere, non so, ti puoi portare dietro di te i segnalibri, le preferenze, insomma, le estensioni, appunto, e quindi portarle sempre con te. Dai, adesso ti lascio e finiamo l'installazione. Ah, eccola finita. Gli dico di eseguirlo e gli dico chiudi. E adesso mi apre. Attenzione che io qui sto su Edge. Vedete come mi apre un Google Chrome. Io qui potrei accedere, ma questo è portabile. Bellissimo. Bene, io adesso chiudo qui. Torno qui e andiamo a vedere il prossimo che ti voglio far vedere. Il prossimo è LibreOffice. Guardate come LibreOffice ha la possibilità, ne abbiamo parlato già tante volte, che cos'è LibreOffice? È un strumento di, come dire, sostitutivo ai più blasonati Windows Office di Windows e questo è completamente gratuito. E questo ha anche la versione portabile. È la versione completa che include Writer, Calc, Impress e tanto tanto altro ancora. La vogliamo vedere? Eccola qui. Torniamo su Portable. Guardate come io già l'ho scaricato. E guardate come qui ho tutte le applicazioni LibreOffice portabili. Andiamo su Calc, ad esempio, che è l'equivalente di Excel. E io lo sto caricando da pennina, capisci? Quindi io non lo sto caricando così, l'ho installato. Non lo sto installando all'interno del mio computer. E qui posso fare davvero qualsiasi cosa che io voglio. Bello, bello, bello. Il prossimo, questo è per gli amanti degli artisti, diciamo così. Gimp, che è questo sostituto, ma sostituto sembra quasi di serie B, diciamo un equivalente dei programmi di grafica molto famosi, anche Gimp ha la sua possibilità di averlo da pennina. Quindi Portable, eccolo qui. Guardate, io già l'ho scaricato perché altrimenti ti faccio perdere un sacco di tempo. Vedete GimpPortable.exe e a questo punto si sta iniziando Gimp direttamente da pennina. Immaginiamo che io debba andare da un cliente, debba andare, non ho il mio computer, voglio sempre avere a disposizione un programma di fotoritocco, con me basta mettere questo programma sulla tua pennina, sul tuo hard disk e così via e poterlo caricare direttamente da qui. Tra l'altro ti faccio vedere come in effetti anche il caricamento non è così oneroso. Questo è un programma molto importante, eppure si sta caricando abbastanza velocemente. Qui poi posso fare tutte le cose che voglio, creare un nuovo documento, ok, eccetera, e qui poi poter iniziare a disegnare, eccetera, eccetera. Bellissimo. Andiamo, andiamo, ti faccio vedere l'altro che è VLC. Anche VLC ha la possibilità del download, però qui ti voglio far notare una cosa. Spesso i programmi portabili, non c'è scritto Portable, ma c'è scritto Zip. Guardate ad esempio qui è il VLC per Windows, e guardate se io vado su Windows mi dice lo Zip Package. Lo Zip Package tu lo puoi scaricare ed è la versione portabile. Guarda un po', io l'ho fatto già, vado qui, Gimp, torno qui, eccola qui, fammela vedere, vedete? VLC 3.0 ed è la versione Zip. Se tu la unzippi, la unzippi, eccola qui, quella unzippata, io adesso vado e possiamo, a questo punto, no, ho sbagliato, scusami, è VLC.exe. A questo punto vedete come posso caricare VLC direttamente da pennina. Eccolo, vedete, si è aperto e questo VLC lo sto caricando proprio da pennina, non lo sto caricando, come ti ripeto, dal mio computer. Andiamo avanti e ti faccio vedere questo MC Soft. Questo è sempre da avere all'interno delle tue pennine, perché è un emergency kit. Vedi uno scanner che può essere usato senza installazione per scannerizzare e pulire i computer infetti. Infatti, quando tu hai un computer infetto, è già infetto e quindi pulirlo dal di dentro diventa molto, molto complesso. Invece, avere un emergency kit come questo all'interno di una tua pennina fa in modo di poter scansionare dall'esterno il tuo computer. Molto più efficace nel trovare i virus. Forza, andiamo a vedere come funziona. Eccolo, anche questo l'ho scaricato per te, solo per te. Però lo debbo ritrovare. Eccolo qui, emergencykit.exe. A questo punto sto avviandolo da pennina e quindi è come se io adesso volessi fare una scansione del mio computer da esterno. Quindi, diciamo così, senza caricare gli eventuali virus malevoli all'interno del mio computer. Ci mettono, come al solito, un pochino di più rispetto a quelli installati. Vedete qui, ad esempio, io dovevo fare l'installazione. Ecco, mi ero scordato che l'avevo già fatta. Emergency si chiama. Eccolo qui, Starscan. Quindi, ed è da pennina, eh. Guardate che io sto su Lumix D, che è una mia pennina, e quindi lo sto iniziando da pennina. Non lo sto iniziando da C2 punti, D2 punti o dal mio hard disk. Quindi questo emergencykit sta partendo dall'esterno e adesso si sta, vedete, loading malware signature. Quindi si sta caricando tutte le firme dei malware dall'esterno e poi, una volta che si è caricato, posso fare la scansione del mio computer perfettamente. E quindi, insomma, molto, molto meglio, perché possiamo riprendere il controllo del nostro sistema nel caso malaugurato. Eccolo qui, guardate, possiamo scan and clean, la mettere in quarantena, il settings, eccetera, eccetera. E quindi qui puoi fare la tua scansione. Bello, bello, vero? Ecco, un'altra cosa che ti consiglio, magari, ecco, questo è un pochino per i più esperti, va, diciamo così, è questo tool qui, l'Open Speed Test, per vedere, ad esempio, se la tua rete è veloce. Come posso fare? Niente di, di, niente, posso scaricarlo, vedete, Open Speed Test Server for Desktop or Mobile, e quindi posso fare la scansione tramite questo file eseguibile. Anche in questo caso, posso, non la scansione, scusami, posso vedere se la mia rete è veloce e così via. Guardate, devo averlo, eccolo qui, anche questo l'ho scaricato, è un eseguibile, quindi può essere eseguito anche in questo caso dalla mia chiavetta, dalla mia pennina. Ecco, abbiamo fatto anche un video, abbiamo sempre questo plurale maiestatis, ma sono io, Mariano e Pierantozzi, tutti e tre insieme, quindi io sono solissimo nel fare questo mio hobby. Il nostro mestiere è un po' troppo, ma, comunque, abbiamo fatto un altro video, ti stavo dicendo, proprio sul non buttare le pennine. Non so, vallo a ritrovare perché è veramente interessante, vedi, Start Server, adesso io basta che clicco qui, è stato copiato questa URL nella clipboard, vado su una cosa nuova, copio questo indirizzo che mi aveva dato e faccio lo speed test sia in download che in upload e vedo anche il ping. Bellissimo anche questo, ottimo, video velocissimo per farti vedere come mai buttare le pennine vecchie, perché puoi usarle, ad esempio, per mettere tutti questi programmi molto importanti e sono programmi gratuiti, portabili, che vogliamo di più? Beh, non facciamo pubblicità, benissimo, adesso non mi resta che ricordarti di iscriverti al mio canale, questi sono tutti gli altri miei social, vienimi a trovare su Telegram perché ti do tante, tante offerte al giorno. Sì, questi sono tutti gli altri miei social, te l'ho detto, adesso non mi resta che augurarti un buonissimo studio, un ottimo lavoro che ti dia tantissima soddisfazione, ma comunque, comunque sia, una vita splendida e ti saluto il mio, ciao ciao, alla prossima, grazie ragazzi. Ciao, alla prossima, grazie a tutti.